Allora, riprendiamo e in quest'ora, in realtà, che ci manca, parliamo di funzioni e spero di riuscire anche a iniziare l'esercizio, quantomeno. Allora, le funzioni, come vi dicevo, sono uno degli elementi più importanti che ci sono in JavaScript. Perché hanno alcune caratteristiche particolari, per esempio, delimitano un blocco di codice che ha un suo scope, ricordate lo scope che vi ho detto l'altra volta. Le funzioni, come tutte le funzioni, possono accettare parametri, possono ritornare un valore, e questo valore può essere un oggetto, quindi può essere anche complesso e composto da altre cose. E le funzioni, come vi dicevo prima, sono esser stessi oggetti in JavaScript, quindi possono essere assegnate variabili, possono essere passati come argomenti, possono anche essere usati come valore di ritorno. Quindi non sono solo come le funzioni che siete abitati a usare, ma sono un po' di più di quello, perché appunto sono oggetti, quindi hanno le caratteristiche, in un certo senso, degli oggetti che abbiamo visto finora. Ci sono tre modi di dichiarare le funzioni in JavaScript. Cioè il metodo classico, quello che vi aspettate, che siete abituati a vedere, quindi function, il nome della funzione, eventuali parametri, aperta graffa, il corpo della funzione. E il metodo classico, per esempio questa è una funzione che calcola il quadrato. La funzione square accetta un parametro x, che poi fa x per x e lo memorizza in y e ne ritorna y. E quindi poi, a un certo punto, nel codice uno può chiamare square di 4 e viene chiamato esattamente questo. Quindi, cosa succede durante l'esecuzione se ne guardiamo sempre, se non la guardassimo sul JavaScript Tutor? Vedremo che a un certo punto avremo un oggetto che si chiama square, che punta a una funzione, quindi questo concetto è un po' strano, ma immaginiamola sempre come un oggetto. Poi, durante l'esecuzione, quando siamo all'interno della funzione, abbiamo dei valori. Abbiamo x, che è visibile qui, in questo scope, in questa funzione sola. Abbiamo y, che assumerà a un certo punto il valore, e poi avremo anche questo valore di ritorno, che sarà 16. Dopo l'esecuzione, questo sparisce. Non abbiamo più, dopo l'esecuzione della funzione, quindi qui, in un certo senso, non abbiamo più questi valori, quindi la variabile y non è più visibile, perché era definita solo all'interno della funzione, ma avremo poi n, che sarà uguale al quadrato di 4, quindi sarà uguale a 16. E ovviamente la funzione rimarrà puntata come oggetto, perché è sempre comunque riferita a un oggetto. Quindi, al di là della diversità in alcuni punti di esecuzione di una funzione, e del fatto che questi comunque esistono all'interno della funzione, ma qui non si può più chiamare y, perché è definita qui dentro, non ci sono poi grosse differenze con le funzioni classiche, le funzioni che siete abituati a vedere. I parametri, potete averne 1, potete averne 0, potete averne più di 1, sono separati da virgola, potete avere i parametri default, quindi parametro uguale numero, che indica che quando non è definito, non è passato quel parametro, il parametro di default assumerà quel valore. I parametri sono passati per valore, e i parametri che non sono passati alla funzione prendono il valore di undefined, a meno che non siano ovviamente definiti con un valore di default. Quindi se voi non passate a, avrete undefined virgola 1, in questo esempio qui. Potete, nelle funzioni, questo si applica alle funzioni classiche, ma anche agli altri due tipi di funzioni che adesso vedremo, avere un numero non predefinito di parametri, se volete, quindi potete avere 0 parametri, potete averne 1, potete averne esattamente 5, o potete dire un po' di parametri, di cui i primi due sicuramente sono usati in qualche modo, e poi il terzo contiene in realtà tutti i parametri che passo. E questo tutti i parametri che passo viene fatto con una sintassi che è praticamente identica alla sintassi che abbiamo visto per lo spread, ma si chiama rest in questo caso. Quindi è un parametro per le funzioni, che in questo caso sono tre puntini e un nome, ed è un parametro vero e proprio. E cosa fa? Semplicemente deposita, quando questa funzione viene chiamata, i parametri aggiuntivi in un array, in un array che si chiamerà R. Quindi, e questo parametro ovviamente deve essere l'ultimo, non può essere prima. Quindi prima i parametri di cui sapete, ok, io so che il primo parametro mi serve per questo, il secondo parametro mi serve per quest'altro, il terzo parametro per un altro motivo, e poi ammetto un certo numero di parametri aggiuntivi, che possono servirmi o non servirmi, possono essere due, possono essere cinque, possono essere venti, e tutti questi li metto in un array. Non mi interessa quanti siano, perché tanto saranno in un array e poi ci farò qualcosa. Questo è un esempio, no? La somma. È una funzione che fa la somma. Prende un parametro iniziale e poi prende tutti i parametri della somma, perché alla fine l'operazione è la stessa. Non mi interessa se faccio la somma di due numeri, o la somma di cinquanta numeri, o di ventinove. Posso comunque fare la somma nello stesso modo. Quindi il valore iniziale è quello che inizializza la somma e poi per ogni elemento di questo array lo sommo al valore a sum e restituisco quel. Quindi 0, in questo caso, viene messo dentro initVal, 2, 4, 5 vengono messi dentro questo array. In questo caso, di nuovo, tre elementi, potrebbero essere due, potrebbero essere cinquanta, non importa. Il codice funziona e quello è un modo per dire, lo ripeto, il parametro di rest è un modo per dire tutti i parametri, da questo punto in poi, vanno a finire qui dentro. E qui dentro è un array. Quindi questo funziona per le funzioni classiche, come l'abbiamo chiamato adesso, e funziona anche per gli altri due tipi di funzioni, che adesso vedremo. Il secondo tipo, il secondo modo di dichiarare una funzione sono le function expression, che possono essere con nome o senza nome, ma sempre function expression sono. Le function expression sono scritte così. Vedete, c'è una variabile, che può essere una costante, può essere letta, non importa. Poi c'è uguale una funzione. E questa funzione può essere senza nome, nel senso che si usa la parola chiave function, e poi ci sono i parametri, esattamente come prima, da zero al numero che volete voi, oppure possono anche avere un nome, se vi servisse avere un nome della funzione. Però il concetto è lo stesso. C'è la funzione viene assegnata a una variabile, che poi viene usata per chiamare quella funzione. Qui si vede la natura a oggetti della funzione, che la funzione è un oggetto, perché essendo un oggetto posso assegnarlo a una variabile, e quindi puoi manipolare quella variabile, se volessi. Che è una cosa nuova, diciamo, rispetto ad altri linguaggi di programmazione di JavaScript. Quindi c'è il modo classico che si usa, c'è il modo function expression, con o senza nome, ma quello che cambia è appunto il nome che si dà alla funzione. Spesso si usa senza nome, perché già tanto abbiamo la variabile prima, quindi possiamo usare questo. E poi ovviamente è una funzione, quindi le stesse cose che funzionano per i parametri, che valgono nel modo classico, valgono anche qui. Il corpo della funzione è sempre il corpo della funzione, e quindi posso definire delle variabili, posso fare delle operazioni, posso chiamare altre funzioni, esattamente come una funzione normale, diciamo così. Cosa succede? Vedete, per esempio, questa è una funzione, l'abbiamo vista prima, la funzione quadrato, che funziona esattamente come prima, e poi abbiamo una function expression, che in questo caso è con nome, l'abbiamo chiamata c, ma poteva anche non esserci questo nome, per quanto in questo esempio non sarebbe cambiato niente. E che cosa dice? Dice che questa funzione, che non fa altro che fare il quadrato di quello che gli si passa, moltiplicare il quadrato per x, fare il quadrato di x e poi moltiplicarlo per x e ritornarlo, quindi fare il cubo, essenzialmente, è una function expression. E quando vogliamo chiamarla, la chiamiamo così. Quindi non usiamo il nome c, ma usiamo direttamente cube, e a cube passiamo il parametro che si aspetta alla funzione, e poi si comporta come una funzione. Vedete, per esempio, come viene visualizzato qui. Vedete che square, la funzione originale, viene comunque chiamata square, come se avesse una variabile che si chiama square, e a cui è associato l'oggetto function square. E questo viene rappresentato nello stesso modo, come se ci fosse una variabile che si chiama cube, a cui è associato poi un oggetto che è la funzione c. Ma il comportamento, da questo punto di vista, è lo stesso di una funzione normale. Questo però può essere comodo rispetto a una funzione normale, perché qui abbiamo una variabile. Abbiamo un oggetto, in un certo senso. Assegniamo una funzione a un oggetto. E questo oggetto possiamo fare quello che vogliamo. Possiamo inserirlo dentro un oggetto e diventa quindi un metodo. Possiamo passarlo come parametro. Noi potremmo scrivere una funzione a cui come parametro passiamo cube. Quindi passiamo una funzione a un'altra funzione. Anche senza parametri, magari. Magari il parametro poi di questa nuova funzione cube lo prendiamo da un terzo parametro della funzione che la chiama. Quindi possiamo fare una serie di cose che quelle funzioni normali, definite così, non possiamo fare. Non possiamo fare sintatticamente, quantomeno. Poi, programmaticamente, ovviamente sì. Che cosa fa questo? Io ve l'ho già detto, no? Mettiamo una funzione dentro una variabile. Crea un oggetto tipo funzione. Invece di creare un oggetto di tipo oggetto, un oggetto di tipo array, creiamo un oggetto di tipo funzione e restituisce il risultato di questa funzione. E a quel punto ogni variabile, noi potremmo anche avere un'altra variabile che si riferisce alla stessa, quindi assegnare la stessa funzione a più variabili. Perché a quel punto lo trattiamo come se fosse un oggetto. E quindi si può memorizzare la reference di questa funzione in un array, potremmo mettere la funzione in un array, in una proprietà dell'oggetto, passarla come parametro, potremmo ridefinirla, la funzione. E allora ci sono due casi, e così via, perché a quel punto abbiamo molto più flessibilità rispetto a dire si può solo chiamare. Perché abbiamo di nuovo a quel punto una variabile che punta a una funzione. e quindi possiamo affegare tutte quelle operazioni che potremmo immaginare di fare con qualunque variabile, indipendentemente dal fatto che sia una funzione, un array, un oggetto, una stringa, un tipo primitivo. Allora, quando... Ci sono due casi particolari che sono interessanti, che sfruttano questo. Sono il passaggio come proprietà, l'inserimento come un object property, cioè un metodo. Possiamo usare questa per definire un metodo in un oggetto, perché un metodo avrà oggetto punto un nome, e questo punto nome è questo. Oppure possiamo passarla, l'altro caso interessante, è passarlo come parametro a una funzione. Quindi una funzione che accetta come parametro un'altra funzione. Quello che è capitato con la sort, nell'esempio che abbiamo visto prima. La sort è una funzione che accettava un'altra funzione, che io ho scritto in quel modo con la freccettina, ma poi si poteva anche scrivere così. E quella è una funzione per cui non ci serve sapere il nome, se pensate alla sort. Che quella funzione all'interno si chiamasse ordina dal più piccolo al più grande, o ordine crescente, eccetera, non ci interessava davvero sapere quel nome. Ci interessava passarla, questa funzione. Quindi che si chiamasse square o si chiamasse altro era poco interessante. Allora, quando diventa, lo usiamo come object property, creiamo un metodo. e quando lo passiamo come parametro, come in quel caso della sort, si dice che facciamo una callback, che è una funzionalità ampiamente usata in JavaScript, che vedremo la settimana prossima, in realtà, e che può essere di vari tipi, può essere sincrona, può essere asincrona, quella della sort era asincrona. Ed è appunto il passare una funzione a un'altra funzione. Il terzo modo, poi alla fine stiamo definendo funzioni, quindi non è che il corpo della funzione cambi troppo tra un modo e l'altro. Il terzo modo sono quella che io ho usato nella sort, le arrow function, che non hanno nome, nel senso che non hanno questo do, per esempio, non esistono le arrow function con nome, ma si scrivono in maniera assolutamente analoga alla function expression. C'è una variabile, poi c'è uguale, esattamente come nella function expression. Ci sono eventuali parametri, potrebbero anche non esserci, se ci sono, sono messi tra parentesi. Poi c'è l'arrow, la freccia, e poi si aprono le graffe e si scrive qualcosa dentro. E qui c'è un esempio con i tre casi. Vedete, c'è la funzione normale, c'è la funzione, le function expression. Sì, le arrow function sono più o meno equivalenti a quelle che in Java si chiamano lambda expression, essenzialmente. Però qui in realtà sono funzioni vere e proprie che hanno alcune proprietà, diciamo così. Per esempio, anche questo lo vedremo, il dis, l'oggetto dis, che è comune dei linguaggi di programmazione oggetti, si comporta in maniera diversa, ovviamente, in un arrow function rispetto alle altre due. Si comporta meglio, diciamo, in molti casi, dal punto di vista dell'utilizzo dentro un arrow function. Quindi spesso si utilizza di più questa che non le altre. Però sì, sono abbastanza equivalenti alle lambda expression. Però vedete, anche qui abbiamo l'esempio con tutti e tre, se li guardiamo anche da come vengono rappresentate, vedete che questa ovviamente è rappresentata anche lei, questa è la arrow function, è rappresentata da una variabile e qui non è memorizzata come function, eccetera, ma direttamente è con la sua espressione, eccetera. È una scorciatoia, noi non certo se spesso e volentieri, al di là di qualche caratteristica tipo questa del dis che vi dicevo, è una scorciatoia per scrivere meno rispetto a questo. Poi ha le sue caratteristiche che la differenziano, ripeto, questa sul dis è una, ma faremo una lezione apposta al dis perché è abbastanza complicato il dis in JavaScript. Però da un punto di vista molto alto, da una prospettiva molto alta, non c'è questa grossa differenza tra le tre tipi di funzioni, questa è sicuramente più veloce da scrivere perché non bisogna scrivere function, eccetera, eccetera, ma si può direttamente utilizzare ed è molto comoda quando per esempio nella sort perché in una riga se ho un'operazione molto breve posso, esattamente come le lambda expression che avete citato, in una riga posso ottenere il risultato che voglio invece di comunque dover dichiarare il function, aprire la parentesi, eccetera, eccetera, eccetera. Questa addirittura si potrebbe scrivere senza le parentesi graffe e senza il return. Si potrebbe scrivere x freccia square di x per square di x. se si volesse ancora ulteriormente accorciare. Come rapportiamo i parametri nelle error function? Esattamente come li riportiamo nelle altri tipi di funzioni con una sola differenza che si possono, si devono usare sempre le parentesi, quindi quando non ci sono parametri bisogna indicare le parentesi vuote, quando ce ne sono più di uno bisogna indicarli separati da virgola. i parametri possono avere il default esattamente come per tutti gli altri tipi di funzioni, quando c'è un solo parametro si possono omettere le parentesi. Solo quando c'è un solo parametro. Questi due metodi sono equivalenti con le parentesi e senza parentesi. E poi i tre tipi di funzione al netto di queste differenze che vi dicevo per esempio sul this funzionano diciamo così nello stesso modo ma ovviamente le error function e le function expression ci danno una variabile, ci danno un oggetto di tipo funzione che si può manipolare, si può passare nelle callback eccetera cosa che invece con le altre non si riesce a fare. Quindi queste sono le macro differenze. Quali sono i valori di ritorno? Come per le funzioni sono undefined, quando non è specificato è undefined e se si vuole ritornare qualcosa bisogna usare return e come per tutte le funzioni solo un valore può essere ritornato si può ritornare oggetti o array e quindi poi a quel punto fare queste cose che abbiamo visto l'altra volta quindi spacchettare l'array nelle variabili quindi anche rinominare le variabili che sono presenti in un array e l'altra caratteristica che vi dicevo già prima che le arrow function hanno un return implicito solo se c'è un valore di default solo se c'è un valore quindi questa cosa qui aperta graffa return square dx per square dx si può semplicemente scrivere square dx per square dx perché il return in questo caso solo con l'arrow function quando c'è una sola riga è implicito quindi quando c'è una riga e non ci sono operazioni l'arrow function possono mettere sia le parentesi graffe sia il return gli altri due tipi di funzione ovviamente no ci vogliono le parentesi graffe ci vuole tutto proprio perché l'arrow function ha anche questo senso di scorciatoia di qualcosa di più di più breve di più corto le funzioni come probabilmente vi le funzioni possono essere innestate l'una dentro l'altra quindi voi potete avere indipendentemente se volete dal tipo di 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 modalità con cui scrivete la funzione quindi modalità classica function expression o l'arrow function e semplicemente si crea una funzione e poi al suo interno si crea un'altra funzione e vedete qui c'è un esempio con un arrow function questa è l'arrow function e qui c'è l'esempio con una funzione invece normale sono equivalenti da un punto di vista funzionale ma anche un po' per quei motivi che vi accendavo prima sul this quindi per ora fidatevi nelle funzioni innestate l'una dentro l'altra è preferibile utilizzare le arrow function rispetto agli altri due tipi di funzione poi funzionalmente nella buona parte dei casi sono equivalenti funzioni correnti però è preferibile per alcuni casi particolari usare questo quindi in modo da essere pronti quando c'è il caso particolare ad avere un comportamento come ci si aspetta e occhio allo scope che abbiamo detto l'altra volta la funzione interna ha ovviamente come scope solo appartiene allo scope della funzione esterna e quindi non può essere chiamata fuori da questa quindi io qui non posso scrivere square aperta parentesi 5 perché qui sono fuori da questa funzione questa funzione muore non esiste più una volta che questa funzione è chiusa e l'altra caratteristica è che questa funzione prendiamola qui questa funzione qui è la stessa lima qui scritta con le parentesi questa funzione qui può accedere se vuole se ne ha bisogno alle variabili dichiarate prima quindi se qui avessi un let c uguale 3 qui dentro potrei accedere a c quindi la funzione interna può accedere alle variabili della funzione esterna e una volta che sono fuori dalla funzione esterna la funzione interna non può essere più chiamata se è definita in questo modo tutto chiaro fin qui perché adesso affrontiamo un argomento non ostico ma neanche banalissimo quindi volevo assicurarmi che tre tipi di funzione pochissime differenze da un punto di vista di funzionamento se non sintattico function expression e error expression ci danno un oggetto ci possono essere inseriti in una variabile quindi ne possiamo fare qualcosa con questa variabile se volessimo proseguo? ok allora affrontiamo una funzione che in realtà è fondamentale in javascript che riguarda le funzioni che si chiama closure allora qui c'è la definizione che è abbastanza critica una closure è un nome dato a una funzionalità in un linguaggio per cui una funzione interna eseguita dopo l'esecuzione della funzione esterna può accedere comunque allo scope della funzione esterna quindi si parla di funzioni si parla di funzioni uno dentro l'altro e in un certo senso la funzione interna può accedere alla funzione esterna anche se la funzione esterna è conclusa quindi in parte è una violazione di questo che vi ho detto adesso è uno dei concetti più importanti in javascript questo della closure quindi per quello volevo assicurarmi che fosse tutto abbastanza chiaro fino a questo momento allora lasciamo un attimo perdere la definizione guardiamo in pratica cosa vuol dire allora javascript usa questo scope definisce questo scope da un punto di vista lessicale quindi ogni funzione definisce un nuovo scope per le sue variabili come abbiamo detto le funzioni interne accedono allo scope delle funzioni esterne se vogliono quindi possono accedere alle variabili definite nelle funzioni che lo includono la cosa che non vi ho detto e che è scritta qui è che ogni funzione ogni object function quindi ogni funzione definita come oggetto ricorda lo scopo in cui è stato definito anche se la funzione esterna non esiste più quindi se io ho un modo e nell'esempio c'è questo modo per prendere la funzione interna e ritornare in un certo senso avere la funzione esterna che mi ritorna la funzione interna non il risultato dell'operazione della funzione ma proprio l'oggetto funzione è quello che abbiamo prima const square const cube ecco quel cube non come funzione come oggetto come riferimento alla funzione se posso ritornarlo io anche se era definito internamente a un'altra funzione quindi il suo scope è finito perché lo scope perché lo scope della funzione esterna non c'è più io posso continuare a usare quella funzione definita internamente perché grazie alla closure lei si ricorda in quale scope esisteva e quindi continua ad accedere se vuole alle variabili dello scope in cui era inserito anche se quello scope quindi quella variabile quella funzione esterna non c'è più è già finita e qui c'è un esempio vedete abbiamo una funzione greeter che ha un parametro che name e questo parametro lo mettiamo in una costante che si chiama my name e poi definiamo una funzione come una function expression senza nome e qui diciamo semplicemente che si chiama hello questo l'oggetto funzione si chiama hello e quando viene invocato chiamerà hello my name quindi una funzione interna che richiama che accede a una variabile della funzione che la include boh fin qui niente di nuovo quello che è nuovo è questo la funzione esterna non chiama la funzione interna ma la ritorna ma occhio non ritorna hello aperta e chiusa grafica aperta e chiusa tonda torna solo l'oggetto torna la variabile quindi torna il riferimento se pensate al disegno che c'era che abbiamo preso da javascript tutor nelle eserle di prima torna quel riferimento a quella funzione quindi quella funzione continua a essere lì stiamo tornando il riferimento a quella funzione e allora cosa possiamo fare possiamo fare che per esempio noi possiamo dire possiamo chiamare greeter che è la funzione esterna e passare tom e memorizzare questo riferimento che viene tornato questo oggetto che viene tornato in una variabile in questo caso in una const che si chiama hello tom e fare la stessa cosa per hello jerry quindi questo greeter di tom metterà tom associerà tom a my name definirà questa funzione che sta lì è definita e questa funzione saprà che dovrà stampare hello punto tom hello spazio tom ma non lo stamperà perché nessuno ha invocato ancora la funzione e poi greeter ritorna l'oggetto riferito alla funzione ritorna hello ritorna a questa funzione qui in un certo senso e quindi noi qui abbiamo il riferimento a questa funzione per cui nonostante qui la funzione greeter non esista più perché è stata chiamata è finita l'esecuzione noi possiamo comunque dire hello tom chiamare questo come una funzione e questo se lo chiamiamo ci stamperà hello tom e questo ci stamperà hello jerry ok adesso prima di rispondere alla domanda volevo assicurarmi della closure quindi questo fatto qui il fatto che io dato che la funzione è un oggetto io ritorno all'oggetto posso poi utilizzarlo anche se la funzione esterna è morta non esiste più perché qui ripeto qui a questo punto la funzione greeter ha terminato l'esecuzione quindi siamo se torniamo dove c'era quel disegnino siamo in questo caso qui in cui non abbiamo più i valori della funzione greeter siamo qui siamo in questo caso i valori della funzione greeter che qua è square non ci sono più però la funzione interna essendo ritornata si porta dietro questi valori in un certo senso e quindi può usarli anche se la funzione che le contiene è morta allora visto che ci sono un po' di domande facciamo così fatemelo copiare in Visual Studio Code così possiamo provare tutti i casi particolari che vi vengono in mente e capiamo no e capiamo cosa succede bene io avevo creato un file functions ma fatemi controllare che il capo sia un apposto sì allora se noi eseguiamo questo vedete che ci stampa hello Tom hello Jerry allora la funzione interna può accedere ai parametri della funzione esterna scusa ai parametri ai parametri quindi tu intendi questo Gabriele intendi fare così sì ovviamente sì vedi non c'è problema qui è solo per far vedere anche un caso diverso in cui hai anche una variabile poi questo bisognerebbe scriverlo così in cui anche una variabile non è solo il parametro però sì ovviamente sì perché questo parametro è un qualcosa che la funzione sa perché ovviamente è passata a lui quindi quello sì se avessi chiamato la funzione greeting direttamente dalla console log funziona lo stesso quindi così tu mi dici greeter Tom no però aspetta prima di dire chi è Davide così come ho scritto adesso così come ho scritto adesso questo ritorna un oggetto quindi se io lo eseguo lui mi torna una funzione e vede un oggetto che mi dice c'è una funzione che si chiama lo non mi esegue la funzione perché qui non ci sono le parentesi ok mi ritorna il riferimento se vuoi alla funzione io potrei ma non so se funziona quindi lo stiamo provando adesso live ecco fare così greeter Tom aperto e chiuso parentesi perché questo greeter Tom è un oggetto che si eseguisce a una funzione quindi per quel punto lo invoco con le altre parentesi e quindi viene invocato quindi come dire collasso questa operazione e questa operazione in un'unica operazione sì quindi ho risposto a Gabriele senza aver visto la risposta si possono aggiungere per le due tonde quindi invocare immediatamente la funzione però no perché perché quel punto questo è il riferimento rimettiamo come era Hello Tom tanto è uguale è il riferimento a questa funzione quindi in certo senso questo punta a questa funzione ma la cosa caratteristica della Clojure è che appunto Tom viene definito come parametro qui e questo qui nonostante la funzione esterna sia morta continua a avere a sapere che qua deve stampare Tom e qua deve stampare Jerry nel secondo caso quindi nonostante questa funzione sia morta e quindi tutto quello che succede qua dentro non esiste più avendola tornata riesco comunque a recuperare le informazioni poi vado in ordine con le altre domande dato che con la Clojure facciamo vivere un essere function a livello scopo esterno non si potrebbe direttamente finire la funzione che risultiamo nella function nell'ambiente scopo che ci interessa sì potremmo ma quella non sarebbe la Clojure ovviamente però in alcuni casi può essere utile restituire o può capitare in realtà che ci venga restituita una funzione di questo tipo e uno potrebbe chiedersi perché questa funzione questo oggetto strutturato in questo modo funziona perché eppure non esiste più questa è stata chiamata otto ore fa perché questa funzione lo otto ore dopo continua a funzionare beh perché la Clojure poi certo uno poteva scrivere il codice diversamente e quindi portarsi le informazioni in maniera diversa ma questo è per esemplificare la Clojure non tanto per dire dovete fare così ovviamente si può fare in maniera diversa però per esemplificare uno la Clojure due questa possibilità dato che questo è un oggetto io posso restituirlo come oggetto e quindi posso usarlo ma quindi se scrivessimo console.log esatto sì come con greeter funzionerebbe come con greeter perché perché stiamo stampando il tipo di oggetto è come se scrivessimo come se quello fosse un oggetto che costruite voi e volete stampare l'oggetto ma quello quello non ha un to string perché è una funzione quindi lui stampa il tipo di oggetto si può vedere effettivamente il riferimento intendo un indirizzo di memoria non mi sono mai posto il problema a essere onesto Lorenzo si potrà si potrà credo si potrà ma non in maniera semplice ecco non c'è un un punto address perché non voi dovete comunque pensare che JavaScript nasce ed è ancora tanto utilizzato nei browser dove non è tanto era più interessante come dire fare le cose soprattutto fare animazioni o far sificare codice o recuperare informazioni da server eccetera piuttosto che andare a prendere il riferimento dell'indirizzo di memoria che comunque viene gestito no da prima costruito l'albero quindi anche nel fase di compilazione diciamo così di JavaScript ci sono vari processi che entrano in gioco quindi questo è il concetto di closure il fatto che io da una variabile interna anche se da una funzione interna anche se la funzione esterna è morta riesco comunque ad accedere ai suoi valori e e posso farlo perché grazie alle function expression grazie alle arrow function che ci danno un oggetto funzione da portarci in giro e da restituire e questo è quello che vi ho detto no la funzione è tornata si ricorda il riferimento e la variabile va fuori scope ovviamente questa variabile my name ma anche il parametro name vanno fuori scope quando viene chiamata qui hello ma comunque è accessibile passando attraverso questo hello tom di prima questo riferimento perché abbiamo salvato di nuovo il puntatore a una versione specifica della versione della funzione con tom come parametro o con gary come parametro questo era il concetto delle closure le closure poi possono vado molto veloce su questo tanto è una cosa che capiterà una volta ogni dieci anni che abbiate bisogno di farlo le closure sono permettono il concetto di closure per fare varie cose per esempio uno può emulare gli oggetti emulare gli oggetti che abbiamo visto prima solo utilizzando le funzioni perché prima di tutto le funzioni sono oggetti quindi in realtà è facile e questo meccanismo delle closure ci permette di emulare il comportamento delle proprietà di emulare il comportamento dei metodi per esempio questo è il comportamento delle proprietà e questo è il comportamento dei metodi vi dico sono qui se volete guardatevele è una cosa che è quasi più un dettaglio di curiosità che non qualcosa che poi in pratica si fa in pratica si usano gli oggetti o si usano le classi per costruire gli oggetti non si usano le funzioni costruite con closure eccetera in questo modo però si può fare si può fare sicuramente per esempio qui vedete che questo count 1 viene sempre chiamato uguale ma dato che questo value viene incrementato parte da 0 viene incrementato tutte le volte questo count viene incrementato anche lui sempre grazie al concetto di closure per cui io posso accedere se restituisco una funzione posso accedere ai valori della funzione che includeva la funzione innestata anche se la funzione innestata non esiste più non è stata più chiamata quindi in questo caso counter non è stato più chiamato ma è count e posso emulare gli oggetti e anche gli oggetti con i metodi se volessi ma posso usare gli oggetti invece di di farlo così ecco sono modi alternativi e usare gli oggetti ripeto è più comune un altro concetto carino che può essere utilizzato sono le IFE che non hanno non hanno a che fare con le closure sono proprio un concetto a parte un tipo di funzione a parte sono funzioni come dice il nome immediatamente invocate e poi dimenticate e servono per proteggere lo scope delle sue variabili delle sue funzioni interne quindi uno può dichiarare una funzione con variabili interne con funzioni interne se volesse chiamarla una volta e poi dimenticare tutto quindi sono funzioni use e getta invece ho bisogno di una funzione so che la chiamerò una volta per fare un conto in questo punto e poi non la chiamerò mai più posso definirla e usarla come una funzione normale oppure posso definire una ife quindi funzione che chiamo eseguo e non posso più fare riferimento a questa perché non hanno un nome non hanno un qualcosa da far eseguire e qui c'è un esempio vedete la ife è alla fine una funzione questa è una normalissima funzione tutto questo pezzo qua è una normalissima funzione come scrivereste normale con due caratteristiche che vedete dalla slide una è che è messa all'interno di parentesi tonde viene creato uno scope all'interno in un certo senso viene creato uno scope all'interno viene racchiusa all'interno di parentesi tonde come sintassi per isolarla dallo scope l'idea è quella e poi creiamo una funzione la mettiamo in parentesi tonde e poi questo è veramente importante perché uno rischia di dimenticarselo e poi dato che sono funzioni immediatamente invocate devo non solo definire la funzione e mettere in parentesi tonde ma anche invocarla e come invoco una funzione con le parentesi tonde e qui c'è un altro esempio vedete num invoco una funzione crea una funzione al volo e la invoco subito quindi num avrà il risultato avrà tre dentro perché a uguale a tre ritorna quindi num alla riga dopo qui num sarà uguale a tre ma non potrò più richiamare questa funzione perché è stata creata quindi creata queste due parentesi tonde più il corpo della funzione e poi invocata al volo nel caso di prima potevamo usarla per la sort potevamo usarla per implementare la sort non come parametro della sort perché la sort vuole come parametro una funzione non una funzione immediatamente invocata però se tu avessi da fare la sorta a mano e volessi implementarla al volo perché ti serve solo in quel punto m più potresti implementarla a mano per esempio esatto sì sì è una funzione prendetela così è una funzione usegetta la creo la uso e poi non voglio più saperne una volta sola non mi interessa tenerle tracce questa è una cosa di nuovo che non si usa tutti i giorni in javascript però è una cosa che si usa sicuramente di più di emulare gli oggetti con la closure ecco perché può essere utile ci possono essere casi in cui ho bisogno di fare un'operazione magari complessa magari lunga e di farla quella volta lì senza ripeterla perché non devo usare quella funzione in altri punti quindi funzioni normali definite normalmente che hanno solo parentesi all'inizio e alla fine e poi vengono invocate immediatamente al volo questo lo ripeto per la terza volta perché spesso uno scrive una ife ma si dimentica questo si dimentica le parentesi di invocazione quindi fate attenzione se usate la ife le parentesi di invocazione servono se no questo non funziona non la invoca avete definito una funzione l'avete messa in una variabile e boom e poi bisogna invocarla però anche le ife questa è un'altra cosa che praticamente non 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 si usa anche le ife possono essere usate per emulare gli oggetti perché alla fine le ife sono funzioni e quindi si possono usare anche loro per emulare oggetti quindi in questo caso costruisce un oggetto c con dentro una funzione e lo chiama e a quel punto poi fa c.count che è questa cosa qui qui mischia la ife con la closure che abbiamo visto prima per cui questa funzione non esiste più però dato che il suo riferimento esiste possiamo chiamare non lei perché lei ha mai stato invocata ma possiamo invocare le inner function che sono state rese accessibili dalla closure di nuovo una particolarità che viene usata raramente infine questo è solo davvero una slide sulle funzioni quello che abbiamo detto prima gli oggetti possono essere creati o come object literal come con lo suo costruttore oppure tramite construction function non tanto per creare oggetti tipo object come abbiamo creato prima come abbiamo fatto noi ma per creare oggetti particolari con un tipo diciamo così quindi che ci ricordino di più le classi fatemi dire gli oggetti creati in quel modo quindi cosa sono le construction function sono funzioni che come dice il nome servono per costruire oggetti e si dichiarano e poi si inizializzano si si crea l'istanza esattamente come fareste in un certo senso per la classe quindi voi potreste definire la funzione a car che ha tre parametri modello marca e anno che ha le sue cose this.make cioè come scrivereste per esempio una classe solo che questa è una funzione che è un oggetto e quindi ha i suoi parametri le sue proprietà ha i suoi metodi is new è un metodo scritto come error function e poi potete creare l'oggetto di tipo auto con la keyword new quindi più o meno lo stesso meccanismo che usereste per una classe in un altro linguaggio di programmazione qui lo si fa attraverso le funzioni quindi è una funzione che ci crea un oggetto non un oggetto di nuovo generico ma un oggetto di un certo tipo in questo caso car un oggetto con nome e che ha certe proprietà specifiche quindi un costruttore creiamo un costruttore vero e proprio ma non abbiamo bisogno della classe che contenga il costruttore e all'interno di questo costruttore possiamo avere anche i metodi quindi questo di nuovo approccio molto flessibile che javascript ha e a quel punto possiamo poi costruire l'istanza se volete la specifica auto in questo caso la eagle la eagle talon del 93 e memorizzare una variabile e poi potremmo avere my other car che sarà una ford fiesta eccetera eccetera ma sono tutte di tipo car e avranno tutte queste proprietà e questo metodo quindi funzione che serve per costruire oggetti che si possono impostare le proprietà all'interno della funzione costruttrice del costruttore chiamiamolo così se vogliamo tramite il dis e poi creare l'istanza di quell'oggetto specifico di quel tipo specifico che abbiamo fatto attraverso il new l'ultimo argomento di oggi che cerco di non fare su slide ma solo per dirlo veicemente perché vorrei quantomeno iniziare l'esercizio in dieci minuti poi non lo finiremo però così mettiamo in pratica le funzioni sono le date no this in questo caso la crea la variabile dice che praticamente la differenza è che questo make è preso da qui questo model è preso da qui questo year è preso da qui e queste sono le variabili che tu crei al volo che chiami make model year che sono le variabili associate a ogni singola istanza di car in quel senso però lo crei in quel momento make non deve esistere prima e per associare lo provo a ridire è per associare questo make esattamente a questa istanza alla eagle non alla ford perché ognuno avrà un suo make che sarà this proprio della specifica istanza di auto ok esatto dopo puoi leggere mecar.make come fosse un oggetto qualunque come un oggetto normale se make è scritto in maniera corretta se no devi usare le parentesi quadre tutto quello che abbiamo detto sugli oggetti dicevo date ma velocemente perché in realtà in java scritto al momento c'è un oggetto che si chiama date che serve per gestire le date in realtà serve per gestire un tempo un tempo da epoch quindi dal 1 gennaio del 1970 fa abbastanza casini con il time zone non è molto esteso non è molto potente diciamo al momento e stanno lavorando in javascript per una una versione diciamo così più moderna che considera anche le time le diffuse orari che abbiano più supporto per più cose ma al momento non c'è c'è questo oggetto date che si può costruire con new date con una function construction date senza parametri costruisce la data attuale data ora minuti secondi eccetera fino a millisecondo di adesso del momento della costruzione oppure passando ai parametri voglio costruire una data il primo gennaio del 2021 con delle cose caratteristiche tipo che gennaio è il mese 0 non il mese 1 quindi i mesi li inizio a contare da 0 mentre gli anni mentre per esempio i giorni i giorni no i giorni contano da 1 quindi ha alcune caratteristiche si può usare ma tipicamente quello che si fa il formatting poi è dipendente dal locale quindi si sta scrivendo in inglese in italiano in russo cambia la formattazione di queste date e quindi non è veramente portabile dappertutto un programma che si scrive usando data ma bisogna stare attenti ok sono nel locale italiano allora devo fare così sono tutti controlli che bisogna fare a mano pensarci a farli a mano non c'è nessun tipo di supporto se vuoi da se volete da date e vabbè poi ci sono problemi con local difficile fare confronti tra due date oggetti non c'è un metodo per dire questo date viene dopo quest'altro date questo date viene prima dell'altro date quindi esiste l'oggetto date è un oggetto molto basico però quindi quello che si fa nella pratica e che facciamo anche noi infatti ma non credo oggi è usare delle librerie allora ci sono varie librerie in javascript per gestire le date moment è quella più vecchia e più consolidata ma dall'anno scorso da fine dell'anno scorso è stata in un certo senso deprecata verso altre librerie cioè se andate su moment vi dicono non la manteniamo più se non per sicurezza non usatela usate una delle altre quattro che sono indicate in questa slide essenzialmente noi quella che abbiamo scelto di usare per il corso perché è molto snella molto piccola e fa quello che deve fare bene e ha una sintassi simile a quella di moment e questo day.js che è una libreria fatta da qualcuno per gestire le dati in maniera più sofisticata rispetto a quello che fa date allora quello che voglio fare davvero in questi ultimi dieci minuti è provare a non dico iniziare l'esercizio ma solo velocemente cosa fa date vi permette di creare oggetti data di visualizzarli in vari formati volete visualizzarlo come anno mese e poi qualche frase potete farlo il 2021 03 al 2 potete farlo in formato classico potete visualizzarlo in formato to string si possono creare date partendo da vari oggetti da Unix dal timestamp da date l'oggetto l'oggetto javascript con questo formato ha otto caratteri col formato ISO quindi anno trattino mese trattino giorno t l'ora e i minuti quindi è molto flessibile permette di creare date visualizzare date formattare date confrontare date vediamo se c'è qui per esempio potete aggiungere partendo da un giorno aggiungo un giorno ma sottraggo anche un anno quindi fare anche manipolazione di questo tipo fare confronti è prima la data di oggi viene prima della data che ho memorizzato in quella variabile viene dopo e se viene prima vi da true se viene dopo vi da false vi da dei valori quindi potete fare queste operazioni è la stessa data questa data è tra questi due periodi temporali sì o no quindi tutte queste operazioni che possono essere interessanti e utili quando si manipolano le date per esempio se uno avesse fare una to-do list e avessi un task che scade oggi uno potrebbe dire è il task scade prima di oggi se la risposta è sì magari quindi magari cambio il color al task perché è un task scaduto è un task di scadenza se invece il task scade fra un mese magari non cambio il color al task magari mando un po' il memoria quindi si può fare delle operazioni partendo da questa da questa informazione quindi qui ci sono poi un po' di un po' di esempi un po' un po' di cose ma niente che che non ci sia già per esempio sul sito di Day quello che volevo fare è vedere e poi chiudiamo qui è per iniziare no? anche il terzo esercizio che richiede di gestire una lista di oggetti gestire degli oggetti di tipo esame che hanno queste proprietà e che hanno anche una data allora questa magari mi piacerebbe quantomeno iniziarlo con voi la prossima volta anche se dovremmo fare altro la prossima volta e quantomeno per definire un costruttore di funzioni insieme anche se non per finirlo tutto ma giusto abbozzarlo quello che vorrei far vedere io è come possiamo importare un in questi 5 minuti una libreria come Day all'interno di un progetto JavaScript Visual Studio Code perché ci vuole due passaggi in più che noi non abbiamo mai fatto allora il primo passaggio voi aprite Visual Studio Code normalmente il primo passaggio che bisogna fare è scrivere forse c'è anche qui no scriverlo a mano in questo caso npm init npm è il gestore di pacchetti di node e quello che stiamo dicendo è per favore preparati perché in questo progetto io dovrò prendere dovrò installare dei pacchetti delle librerie delle estensioni qualcosa che non ho creato io insomma e che magari da scaricare da installare ha delle dipendenze eccetera quindi preparati per fare questo questo init inizialenza quindi npm init si preme in bio e vi chiede un po' di informazioni per creare un progetto tipo il nome del package e di default prende il nome della cartella in questo caso esercizi se date in bio prendete il default la versione per esempio uno una descrizione se volete potete lasciarla vuota qual è l'entry point del progetto ne prende uno dei file che già esistono se non ci sono file lo lascia vuoto potete dichiarlo voi per esempio se ne facessimo un nuovo file potremmo chiamarlo transcript .js se volessimo creare quello se c'è qualche comando per fare il testing il testing da ingegnere del software no non abbiamo in questo momento di testing se questo è anche un progetto che finirà su un repository git possiamo dirgli quale repository in questo momento lasciamo vuoto se ci sono delle parole chiave nel caso in cui questo progetto venga distribuito e quindi magari voglio mettere parole chiave perché sia più facile ad essere cercato no non ci sono chi è l'autore buona norma metterlo ma scriviamo Luigi ma si può anche lasciare vuoto se c'è una licenza open source associata al progetto di default prende questa isc lasciamo quella di default e ci dice poi ci fa un riassunto ci dice occhio sto per scrivere nella cartella esercizi un file che si chiama package.js package.json con le informazioni che mi ha appena messo queste informazioni descrittive per inizializzare un progetto noi gli diciamo sì e qui vediamo che tra i nostri file è comparso un package.json che ha essenzialmente le informazioni che abbiamo detto noi di mettere che possiamo anche cambiare se vogliamo qualcosa possiamo cambiare il numero di versione non è un problema è un file di testo quindi si può modificare ma ci serve come punto di partenza per installare le dipendenze senza questo non possiamo installare nessuna dipendenza non possiamo installare la libreria dei e come installiamo un qualcosa sempre usando npm ma invece di scrivere init scriviamo install oppure se siete pigri come me i i è uguale a install quindi npm install o npm i la cosa da installare allora la cosa da installare se guardiamo sul sito di DJS si chiama DJS e avete bisogno di internet per fare questa operazione perché lui scarica il pacchetto diciamo così di DJS e lo installa all'interno del progetto quindi sul computer ma all'interno del progetto quindi al di fuori del progetto questo DJS non è disponibile se installato in questo modo se volete installarlo a livello di sistema operativo dovete aggiungere meno meno global quindi noi ci interessa installarlo a livello di progetto premendo invio lui vedete scarica molto veloce ed è molto piccola scarica e se andiamo a vedere lui ci ha creato un nuovo file che si chiama package.lock package.lock e se apriamo package.json vediamo che è comparso un nuovo pezzo che si chiama dependencies che ha base appunto come dependencies questo perché questo perché se io prendo il mio progetto e questo progetto qua e lo passo a voi lui rimane un progetto npm e quindi quando io quando voi sul vostro computer lo aprite vi basta andare nella cartella del progetto e dire npm install npm install installa tutte le dipendenze indicate qui sotto nella versione indicata qui sotto quindi adesso ce n'è una sola ma potrebbero esserci molti di più quindi possiamo portare un progetto da una parte all'altra e questo progetto ovviamente avrà tutte le sue dipendenze esattamente nella versione in cui è stato creato e in aggiunta crea anche un file che si chiama package.lock package.lock che ha l'albero delle dipendenze quindi in questo caso ha solo day.js nella sua versione ma se day.js avesse svolto una dipendenza quella comparirebbe anche qui quindi se passate il vostro progetto a qualcuno assicuratevi sempre che ci sia sia il file package.json sia il file package.lock.json perché rappresenta l'intero albero delle dipendenze che sono state usate per il vostro progetto e la terza cosa che crea che invece non dovete passare a nessuno perché è dipendente dal sistema operativo è dipendente dal vostro sistema operativo e questa cartella node modules in questa cartella c'è il codice di day.js in questo caso e di tutte le estensioni di tutti i pacchetti che installerete quindi questa cartella non deve essere passata perché se day.js ha dei componenti nativi presi per esempio per il Mac ovviamente se io passo a un computer Windows smette di funzionare e ogni volta che scrivete npm install se non c'è questa cartella node modules ma c'è il package.json e il package lock viene ricreata la cartella node modules con tutte le sue dipendenze quindi se devo passare ripeto il progetto a qualcuno devo passare questi cinque file in questo momento non la cartella node modules che allo stesso modo non è da caricare su git o da altre parti fatemi creare un file così vi faccio vedere anche come si importa la libreria che abbiamo appena scritto la libreria che abbiamo appena scritto si importa in questo modo si importa con require scusate require e il nome della libreria secondo la specifica secondo la documentazione della libreria in questo caso djs e si mette poi in una variabile che potremmo chiamare djs che spesso si chiama in maniera simile alle librerie importate per poterlo utilizzare quindi per esempio se poi noi scriviamo console.log djs che è la nostra variabile punto vedete ci dà tutte le le vari metodi dovrebbe esserci un punto niente così dovrebbe creare una data al momento attuale e se noi eseguiamo questo transcript vedete che qui in maniera molto grezza ma ci ha creato una data con tutti i suoi campi mese giorno anno orario eccetera e ce l'ha presente in vari formati nel formato questo ma anche nel formato separato anno mese giorno ora eccetera eccetera e notate che in questo formato adesso non sono le 10.31 sono le 11.31 dovremmo smettere ma qui invece quindi questo è non nel nostro fuso orario in UTC ma qui invece è riportato correttamente come orario corretto 11.31 allora da qui abbiamo importato day possiamo utilizzarlo se abbiamo una data scritta in date memorizzata questa per esempio quindi questo potrebbe essere let adesso uguale djs ecco in questo caso adesso avrà questa data quindi possiamo confrontarla con altre date vedere se viene prima se viene dopo eccetera probabilmente pubblicheremo le soluzioni di questi tre esercizi e compreso questo ma magari riusciamo a dargli un'occhiata soprattutto sul costruttore delle funzioni per provare le funzioni e gli oggetti all'inizio della prossima lezione di lunedì ok domande? nessuna domanda ok allora fermo la registrazione e noi ci vediamo lunedì per l'ultima volta poi inizieremo i laboratori a lunedì alle 10 sempre allo stesso link e se nel frattempo avete domande o dubbi o curiosità o cose che non funzionano potete tranquillamente scrivere in discussion come avete fatto in questi giorni vi ricordo di compilare il survey per la formazione dei gruppi entro i 14 il link è nelle slide di inizio corso posso anche mettervelo su Slack se volete e che i gruppi possono essere solo fatti all'interno di questo corso quindi non potete fare gruppi con persone dell'altro corso italiano o del corso in inglese c'è modo per aver conferma la creazione di un gruppo se si sono salvati i dati se si sono salvati i dati sì se proprio volete me lo scrivete io posso controllare però in teoria non ho ancora visto il form di Google non salvare correttamente i dati può sempre capitare ma se volete un ulteriore conferma me lo scrivete e io controllo in un secondo ok fermo la registrazione grazie a tutti